ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel siamo all'undicesima sessione pensate abbiamo incontrato fino ad oggi tantissimi cineasti internazionale lo facciamo ancora oggi insieme ad Agnese Mandetta che mi accompagna come di consueto benvenuta Agnese ciao a tutti benvenuti al nostro programma grazie per essere qui con noi grazie Gianni e a tutti i nostri ospiti buonasera un benvenuto anche a Olena Fediuk director writer e producer del documentario Halas Italian Diary Olena good evening hi hello hi everyone thank you for having me here un grande benvenuto anche a James Fitzmaurice che è lo scrittore del cortometraggio A Vampire Kiss in the Plague of 1666 bene e poi eh benvenuto a Federico Scrima che è il eh direttore lo scrittore e il produttore del cortometraggio Schermi benvenuto Federico ciao grazie per l'invito buon pomeriggio grazie a te per essere qui con noi molto bene allora cominciamo subito a intervistare i nostri ospiti sulle eh loro opere filmiche che parteciperanno in concorso lo ricordo sempre dal quattro di aprile fino al venticinque eh in diretta televisiva online insomma per questo festival YMTV Festival e dunque la domanda sarà simile per tutti ovvero parlateci del vostro film e naturalmente precedenza alle donne cominciamo con Olena Olena hi again and please tell us about your documentary and what inspired you to to write and direct it and produce it right um so Ola's Italian Diary it's a documentary film that came out of uh many many years of uh research academic research um I um have a degree in social anthropology and as anthropologist I've spent a year living with uh Ukrainian care workers in Napoli um and um during this year the idea of this film basically came up because one of the ideas was not to come up only with the academic work but to try to make a work out of this research that would be more accessible for everyone and kind of be a bit more emotional and a bit story centered so um okay okay and please let me translate that otherwise I will forget of course thank you e dunque eh la nostra eh Olena è appunto una eh laureata in antropologia sociale e quindi ha vissuto con delle signore dalla che che vengono dall'Ucraina e che vivono e lavorano a Napoli quindi lei mentre faceva la sua tesi ha deciso di eh appunto creare questo questo film questo documentario proprio per dare un'impronta un poco più emotiva un poco più eh realistica a quello che era il suo lavoro accademico quindi ha voluto incentrare diciamo sulla persona sui sentimenti quello che invece poi sarebbe rimasto un semplice lavoro accademico per per la sua tesi di laurea bene vuole continuare stava forse continuando please continue yes um so um but the idea so the idea of the film stayed with me for probably 10 years before I could go back to Napoli and uh make it and um the film is very much centered around the main protagonist um and um I think that uh Ola really managed to bring together a lot of uh qualities absolutely wonderful qualities that allowed me to tell this story in such a beautiful and emotional way okay dunque Gianni eh praticamente la nostra Olena dovette attendere dieci anni prima di poter ritornare a Napoli e girare il film eh e grazie appunto al grandissimo lavoro della protagonista che ha saputo rendere insomma quello che era il messaggio di Olena eh lei è riuscita insomma a creare quest'opera così emotiva e così coinvolgente insomma per le persone che la la guardano perché appunto spiega un po' tutto quello che è un popolo che è costretto ad emigrare per poter appunto andare avanti no molto bene ricordiamo che il documentario dura 48 minuti e eh sarà presente appunto all'interno del nostro festival in aprile quindi non perdete la programmazione che prossimamente sarà resa pubblica e dunque passiamo al prossimo ospite che ci parlerà del suo film eh si chiama James Fitzmaurice è lo scrittore di questo cortometraggio che eh insomma dovrebbe essere se ho capito bene una storia sui vampiri James it's your turn now please tell us about your script why did you write the short uh about vampires in the plague of 1666 well of course um you know a year ago we went into lockdown because of covid and that is our modern plague but there was a plague in london in 1666 and i know about that period of time i know about the 17th century because i've studied it and taught it and uh you know in from an english department and there are these people like uh samuel peeps and um famous diarist and um and robert boyle who was a a scientist an enormously important scientist and then i put in margaret cavendish who was a woman scientist at the time and there are not a lot of women scientists so so i decided to do it a little bit like a monty python yes only i edited the vampire that's wonderful okay let me translate that uh dunque l'anno scorso a causa del covid appunto c'è stata questa piaga cosa che ha ispirato james a scrivere appunto di un'altra piaga che di cui lui ha grande conoscenza in quanto james è un insegnante universitario quindi è molto ferrato diciamo in quello che è il diciassettesimo secolo e quindi lui ha voluto scrivere attraverso insomma la prospettiva di monty python non so se tu li ricordi questi comici inglesi fantastici e quindi ha voluto scrivere appunto non solo su james boyle che era appunto un famoso scienziato ma anche sulla unica scienziata donna di cui si avesse appunto notizia all'epoca can you please remind me the name of the woman scientist margaret cavendish margaret cavendish margaret cavendish and james peep samuel peeps was the diarist very famous diarist ok ok and other things in esatto esatto quindi james peep poi fu la persona che appunto scrisse su questa fu lo storico della 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 piaga che si manifestò in quella in quella epoca e quindi eh insomma james ha voluto dare una uno spin un poco divertì divertente a questa questa situazione che è stato anche il insomma il lockdown del del nostro covid per fare un poco di di arte e infatti la cosa interessante agnese che il film è stato girato proprio con sulla piattaforma zoom con la quale noi ci stiamo collegando adesso si esatto si it was a film uh shot on on zoom as well wasn't it exactly we um i mean i i i've never met the director and i have never met the actors there in the united states and so they're in new jersey near new york and actually uh one of our actress says is a is an italian so um would have liked to have gotten her to be on today but that didn't happen so um so that was fun okay okay we are having fun too thank you for being with us bene e allora eh ricordo ai telespettatori che la durata del cortometraggio è di trentatré minuti quindi eh ecco è abbastanza insomma interessante dal punto di vista anche della visione ehm passiamo adesso invece a un giovanissimo che partecipa in concorso nel nostro festival lo abbiamo presentato prima lui si chiama federico scrima e ha eh scritto ha diretto un cortometraggio dal titolo schermi sei minuti la durata allora federico parlaci del tuo film allora intanto eh ringrazio di nuovo voi per avermi invitato e selezionato chiaramente per il festival dunque schermi è un film molto semplice eh parte ovviamente da come dire un'esperienza personale nel senso che è un film molto intimo anche ehm dura abbastanza è molto breve nella sua durata e non prevede dialoghi quindi è un solo personaggio e mi piaceva proprio rappresentare l'atmosfera di di noi sceneggiatori ecco che ci troviamo di fronte a uno schermo eh molto spesso eh nel quale proviamo a immaginare dei mondi che sono diversi dalla realtà quindi il corto gira proprio intorno a questo doppio piano tra realtà e fantasia e appunto il titolo schermi ovviamente prende spunto dal doppio significato che ha la parola in italiano quindi schermo come monitor ma anche i schermi di protezione che a volte dobbiamo utilizzare ecco per difenderci da dalla realtà e è stato girato in un solo giorno e quindi anche da un punto di vista realizzativo non è stato difficile anche se è stata la mia prima volta su un set e a dirigere delle persone per cui è stata un'esperienza sicuramente molto bella che spero di ripetere prima possibile quando si potrà ok traduco per i nostri amici stranieri so our friend federico is the director writer and producer of the short film scare me which means screens in in english and it's about it's a short film about person so there is just one actor and a woman I think and it's about not only this dimension this world but also the other dimensions and worlds that are around us and also uh the world screen uh means in italian um protection some kind of you know shield so it plays with this double meaning that the world has in italian and it lasts just six minutes um okay and he plays with this idea so he's very eager to you know uh write and produce and direct another one but for now this is the first uh short film he's made molto bene allora passiamo invece adesso l'ultima domanda e la seconda per i nostri amici che si basa soprattutto sulla eh situazione distributiva nei loro territori quindi nel caso di olena in ucraina chiediamo ad olena eh qual era la situazione prima della pandemia eh nel mercato distributivo insomma cinematografico ucraino se era facile difficile distribuire cortometraggi o lungometraggi e che cosa è cambiato con la pandemia uh olena what has happened uh what was the way to distribute films before the pandemic and what's uh what's changed after it uh well it's very uh i guess professional question i'm not exactly a distributor um but um i can say that um i mean this is the second film that i made and both of the films for me are festival films but also they are films for targeted audiences so the life that both of my films have is that they are getting screening on various um educational facilities like uh schools and uh students uh seminars also they go to a lot of um um conferences uh either in migration or regional studies but they also go to some uh festivals especially topical festivals like um you know uh migration film festivals or festivals work focusing on various like human rights or social issues um okay thank you for that dunque gianni eh olena ci dice che siccome lei non lavora nel campo della distribuzione ovviamente lei non ha una conoscenza molto approfondita quello che può dire però delle sue opere che sono state due fino adesso e che queste sono state distribuite su varie piattaforme soprattutto in ambito educazionale quindi in ambito educativo scusami e quindi sono state distribuite anche in vari festival specialmente i festival a tema ossia quelli che vertono sui diritti umani sui diritti sociali sulla immigrazione migrazione quindi lei è credo are you happy with the with the outcome of your of this distribution of this kind of distribution olena uh i'm happy in general because on the average uh the films i mean from the last year i've experienced that my films had about 30 screenings per year which i think is a good uh ratio but also i mean this opportunity what you have like putting a film on tv uh for me it is absolutely special and very dear because uh the film is about a woman who lived and worked in napoli and dedicated her last 20 years of her life to working in napoli and kind of fell in love with the city and it's very special for me that there is an opportunity to celebrate her story you know locally and in the place where she lives and works and loves you know i think it's very special thank you thank you dunque olena è molto molto contenta per come è andato insomma la distribuzione dei suoi dei suoi film finora ma soprattutto è molto contenta gianni che tu le stai dando l'opportunità di fare vedere il suo film su una piattaforma televisiva e soprattutto in italia perché ola che sarebbe la protagonista di questo di questo documentario è una donna che è venuta a lavorare in italia e vi ha vissuto a napoli per vent'anni e si è innamorata della città praticamente quindi eh dal documentario traspare appunto il suo amore per per la città di napoli e quindi per olena è molto speciale questa cosa che noi che siamo così vicini a napoli stiamo trasmettendo quella che è la sua opera che in effetti parla appunto dell'amore di una persona straniera per questa bellissima città bene son contento allora passiamo a james stessa domanda gliela poni tu agnese james fa parte degli stati uniti chiedo scusa agnese e quindi il paese d'origine sono USA ok so james what about distribution of your work so far yes ah just film festivals actually we i mean what we're doing is we're getting this out to the film festivals we're hoping to actually go in person to the film festivals and talk to people and kind of get into the system that way the um the group the the producer director actors are all part of a theater company in new jersey and um they're thinking now about possibly working this into a tv series oh so they and it's interesting because it's even a union project i mean it's at the lowest level of funding but it's still a union project so uh yeah festivals first amazing okay good luck on your endeavors let's hope for the best thank you it's a very nice idea i mean it it was really fun to watch it so i'm i'm pretty optimistic oh yes i do oh okay good this is what i was wondering yes i do okay johnny dunque ci dice james che in effetti per il momento loro si stanno dedicando solamente ai festival ehm la compagnia teatrale che si è incaricata di interpretare quello che james ha scritto è basata in new jersey e eh stanno parlando di creare una una serie televisiva su questa sua su questo suo script quindi stanno appunto ehm andando avanti con 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 questo progetto per il momento è un poco non ci sono molti fondi però comunque c'è il progetto le cose si stanno muovendo e quindi james è molto ottimista e quindi bene io ho parenti a wehoken quindi se dovessi tornare lì andrei a vederlo okay james johnny is willing to come and see you because he's got family there oh wehoken in london or in new jersey oh in new jersey in new jersey oh yeah new jersey is a very italian part of the united states yes wehoken is the 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 country wehoken yeah you know wehoken with hoboken wehoken i don't i don't i know new jersey i don't know new york newark newark new jersey new jersey yes new jersey yeah it's across the river from new york ah ok bene allora eh che cosa ha detto quindi james agnese hai terminato già la sua sì 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 che si dedica soprattutto ai film festival per il momento e che appunto diventerà una serie televisiva anche se c'è poco eh diciamo ci sono pochi fondi al momento però loro sono molto ottimisti e quindi stanno distribuendo e quindi stanno distribuendo sulle piattaforme festival molto bene Federico per terminare poi ci salutiamo perché poi passiamo alla sessione numero due eh Federico la tua esperienza nella distribuzione visto che sei giovanissimo non so ci puoi parlare un poco della capacità insomma di far veicolare eh il tuo cortometraggio è la prima volta che partecipi con noi dunque eh per quanto riguarda insomma la domanda eh credo che da un punto di vista distributivo insomma i corti eh ovviamente non vanno al cinema per cui hanno delle difficoltà maggiori però devo dire che dalla mia esperienza che dall'esperienza che sto facendo finora ovviamente le occasioni sono i festival per cui il corto è più un modo anche per farsi conoscere in qualche modo un biglietto da visita vero? Sì sì sicuramente è chiaro che per chi comincia eh i mezzi produttivi sono quelli che sono quindi è giusto cominciare con eh un cortometraggio che chiaramente implica meno meno sforzi sicuramente è un modo per potersi mettere alla prova quindi può provare a capire insomma cosa vuol dire stare su un set e fare un film perché poi in realtà anche se durano meno rispetto a un lungometraggio però il lavoro dietro c'è come eh dall'esperienza che ho avuto ripeto ho girato un po' nei festival e quindi già già così è tanto nel senso che comunque ho avuto modo di 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 conoscere delle nuove realtà e questo sicuramente aiuta. Ok. Molto bene. Allora il nostro incontro è terminato io ringrazio. Thank you very much Olena. Thank you very much James. Thank you very much for ehm Participation Federico. Grazie a voi. Thank you. Thank you for this opportunity and good luck with the festival. Yes good luck to you. Good luck to you all. Welcome again and we would like so much to invite you to Italy and meet you in person one day. As soon as this is over we would like to meet you in person and Let's hope so. Let's hope so. Let's hope so. Our beautiful land. Yes. Yes. Let's stay in touch on our social. Ok. 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 Congratulations to all. Ciao. 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 Thank you.